Gli ex marinai sull'onda della solidarietà, presso la cassetta di Natale in Piazza Libertà d'Apellino, l'occasione attraverso Teleton di contribuire alla ricetta per le malattie genetiche rare. Noi partecipiamo con piacere come marinai d'Italia, anche se siamo ad Avellino, siamo sui mondi, come regge del monumento laggiù, nati sui mondi, morti sul mare, che se ne pensa ad Avellino e provincia abbiamo molte medaglie d'oro al valore militare e queste iniziative per beneficenza ci piacciono come marinai e perciò abbiamo sponsorizzato Teleton per beneficenza. E qual è il messaggio che vogliamo lanciare ai cittadini e alla comunità? Come contribuire? Come contribuire? Approfittando a comprare questi cuori, queste caramelle che sono buone per la Befana, questa notte è sciarpe, sempre con altre cose che ci stanno, tanzine, in modo da poter devolvere a Teletonne per le ricerche che loro fanno, più soldi possibile. Sì, sì, chiediamo a tutti gli avellinesi di contribuire alla ricerca, quindi vi aspettiamo tutti alle casette. Fino a quando? Fino a 7.